Ma sapevamo che era una partita difficilissima contro l'Aversario che viene da parecchi risultati utili e quando hanno cambiato l'allenatore hanno veramente fatto un bel ritmo, sapevamo che era veramente dura e mancato solo il gol, abbiamo avuto qualche occasione, abbiamo limato qualche errore ma penso che sia un punto importante. Noi che teniamo sempre botta e cerchiamo di regalare il meno possibile all'avversario l'occasione, penso sia la strada giusta, noi guardiamo partita dopo partita, affrontiamo qualsiasi avversario con rispetto e umiltà, queste sono le caratteristiche nostre importanti che ci sta facendo fare un ottimo campionato. Era la terza partita della settimana in cui la prima siamo andati a Bolzano, abbiamo giocato con 5 gradi, poi siamo andati a Reggio, abbiamo giocato con 25 gradi, comunque non era una settimana facile, sapevamo che era difficilissima, ma penso l'abbiamo fatta perfetta, diciamo che abbiamo portato più punti possibili a casa, cosa che è importantissima. Ripeto, contro un avversario forte, forte, costruito per vincere il campionato, penso sia un punto importante.